Eccoci al secondo tutorial sull'annotazione con finale utilizzando il tool Speedy che come vedete è già selezionato vediamo come inserire quindi le note utilizzando il tastierino numerico allora mi posiziono sulla prima misura e cliccandoci all'interno si apre questa finestrella con i tasti su e giù le freccine mi posiziono sulla prima nota che devo digitare un mi da un quarto e quindi schiaccio il 5 eccolo qui a questo punto mi sposto sul fa e ancora il 5 adesso nella mia idea ho un sol da due quarti quindi digiterò il 6 nella battuta successiva che come vedete è passata automaticamente ho un do da quattro quarti quindi una semibreve e quindi schiaccio il 7 successivamente avrò quattro ottavi quindi schiaccerò il numero 4 del tastierino numerico posizionandomi sulle note che mi servono concludo questa battuta con una nota da due quarti e in questo momento faccio una piccola quartina di sedicesimi utilizzando il 3 ecco e poi concludiamo questo breve esercizio con queste note in questo momento voglio legare il do quello finale di battuta a questo do da quattro quarti successivo come farò ho due possibilità o schiaccio l'uguale e si forma anche se non compare molto bene una legatura oppure adesso la elimino schiacciando di nuovo l'uguale premendo il tasto T ottengo la stessa cosa metto la nota do da quattro quarti e cliccando in un qualunque punto fuori dagli pentagrammi si quantizzerà la partitura appena scritta ecco qui vedete intanto faccio notare la legatura che è comparsa e che tutto si è quantizzato ora posiziono il basso e la linea melodica del pianoforte con lo stesso sistema lo farò velocizzando la visione ecco riprendiamo e in questo momento metterò la seconda voce sul basso e successivamente sulla chiave di violino e per fare questo mi posiziono nella posizione ovviamente che desidero ed sarà sufficiente dare invio nella posizione mi comparirà una nota di uguale valore a quella a cordale procedo quindi con l'inserimento delle altre note anche questa volta velocizzando il video eccoci procedo con lo stesso sistema sulla linea inferiore del soprano a questo punto possiamo togliere e eliminare tutte queste battute selezionando il tasto metatool seleziono la parte che mi interessa e con il tasto cancella elimino il tutto ecco qui come inserire le note sul finale a presto per il nuovo tutorial a presto per il nuovo tutorial a presto